Marchi fuori dalla giunta, il motivo ufficiale sono gli incarichi professionali, certo non è un mistero che i rapporti fossero già raffreddati, lei a posteriori si rammarica di averlo messo in giunta? No, 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 assolutamente, voglio dire la verità, con Lorenzo ci si era parlati perché lui gli impegni professionali ce li ha per davvero e anche gli impegni politici, io voglio ribadire i miei rapporti sono assolutamente cordiali, resta un rapporto personale d'amicizia ormai decennale e di rapporto credo anche futuro politico assolutamente senza nessun tipo di discussione. Tra tutte le persone con cui poteva sostituirlo ha scelto proprio l'attuale segretario del PD, perché proprio lui? Il periodo dal punto di vista sanitario avremo ancora da fare, dal punto di vista economico credo che il periodo più complicato debba ancora venire, quindi ho bisogno di una persona che entri immediatamente nel campo di gioco, che non abbia bisogno di rodaggi particolari. Gabriele conosce tutti, conosce sia l'ambiente della giunta, del consiglio comunale, conosce qual è la situazione comune. Lei è un sindaco che non sa condividere le sue scelte, perché così dicono gli zingarettiani, soprattutto a proposito della sua scelta per il sostituto di Marchi? Beh è bizzarro, lo dico onestamente, io l'ho detto, sono naturali fibrillazioni credo ci siano quando ci sono queste situazioni. Secondo me, forse diciamo, in questo caso presi dalla passione, si è andato un po' oltre rispetto a quello che la scelta di un segretario, lo ricordo, è stato scelto da tutti. Io sono un uomo che cerco di essere di grande pazienza, lo voglio leggere come una forma di volontà di partecipazione ancora di più. Questo eccesso di passione degli zingarettiani che poi è una esacerbazione degli animi, crede che cambierà gli equilibri nella futura segreteria? Forse il motivo principale che ha creato qualche tensione è il fatto che se qualcuno pensasse che Gabriele mollasse la segreteria del partito, tra l'altro mi sembra senza tanto motivo, visto che tra pochi mesi, aprile, maggio, giugno, ci sarà un paraggio congressuale importante. Vedremo quello che succede. Ripeto, secondo me è una stagione finita. Ogni volta che si aprono questi tipi di situazioni, dentro ai partiti cambiano completamente gli scenari. Al netto del fatto è che tutte le sensibilità e le attenzioni devono essere sempre rappresentate e prese in considerazione. Poi la giunta la nomina al sindaco, nel senso, almeno questo lasciatemelo. Dopo Marchi ci saranno altri cambi in giunta? No, quello di Lorenzo è stata una scelta personale, perciò se non ci sono queste situazioni assolutamente no.